Dario, chi vince lo scudetto l'anno prossimo? Eh, raga, l'Inter si sta attrezzando bene, attenzione. Anche perché la trattativa su Lukaku sembra essere andata bene, quindi a quanto pare Lukaku torna all'Inter. Io, ragazzi, ripeto, come posso dire, sono contento per gli interisti di Lukaku che torna all'Inter, però allo stesso tempo, ragazzi, sta osa che si va e si viene in base ai soldi, che non esiste più la maglia, la fedeltà, la bandiera, mi sembra un po' nazata. Posso dire? Posso dire che mi fa schifo? Dai. Cioè, poi tutti contenti. Ah, Lukaku, che torna Lukaku, raga, e torna per i soldi, mica perché gli garba l'Inter. Poi gli interisti che devono dire, no, ma lui ha detto che è affezionato all'Inter, sì, ma lo devono dirlo, dicono sempre, ragazzi, di tutte le squadre. Sì, ho visto che torna anche Pogba, però, vabbè, vedremo, ragazzi, vedremo, vedremo. Pogba la Juve, raga, che devo dire? E anche lì, boh, ormai i calciatori sono dei mercenari dei tempi odierni. Cioè, il Totti che ti rimane alla Roma, nonostante le offerte, è d'esempio, secondo me è una storia vecchia, i saliti discorsi su Totti, però, tops. Si è dimensato lo stipendio per tornare a Lukaku. Ma è vera questa cosa? Forniamoci, dai. Sì, Dalione è vero. Ah, questo cambia molte cose, eh. Anche Del Pierone, sì, anche Del Pierone. No, però, ragazzi, attenzione, perché Del Piero, comunque, se non era nell'ultima parte di carriera, andò al Sydney. Comunque andò in Australia. Però, ci vanno molti giocatori, eh, quando credono che la loro carriera sia finita. Per esempio, secondo me, nonostante lui non lo ammetterà mai. Ah, è stato cacciato. Sì, è vero, mi ricordo il problema. Per esempio, Zlatan, secondo me, era andato a Los Angeles Galaxy un po' per quello. Cioè, per dire, ma, forse mi pagano tutti questi soldi, io gli ultimi soldi e poi smetto. Però poi è andato avanti. Ma invece un manga tema simile... a simile Ghost of Tsushima... E quindi... E quindi... Andere... E quindi...